Ciao, andiamo a vedere come studiare su questo workout ispirato a Corey Wong. Ti lascio il video giù in basso originale dove lui, chiaramente un chitarrista, lo applica come riscaldamento sulla chitarra. A me alcune fasi mi sembravano interessanti, le ho sviluppate sul basso elettrico per quello che può essere comunque le nostre possibilità avendo soltanto quattro corte. In questo video do per scontato il fatto che si conoscano alcuni concetti un pochettino più avanzati che possono essere quello del ciclo delle quinte, quindi sapere qual è l'ordine, anche se comunque te lo scrivo, e poi ragionare come arpeggio maggiore e relativa minore. Qua ne farò dei riferimenti, ma se non ti è chiara la cosa magari scrivimi, in futuro potrei fare un video dove spiego soltanto queste cose singolarmente. Se invece sei già un po' più scafato, diciamo, allora possiamo andare a sviluppare questo esercizio. Qua verrò nella partitura, ti troverai una partitura con un esempio in Do maggiore e la sua relativa a la minore, cioè io devo andare a suonare una scala maggiore, un arpeggio maggiore su due ottave e poi la sua relativa minore. Questo per ogni accordo del ciclo delle quinte, quindi partirà con Do maggiore e la sua relativa a la minore e poi passerà al Fa maggiore, che è la quarta dopo il Do, Fa maggiore con la sua relativa Re minore, dopo Si bemolle maggiore con la relativa Sol minore e così via. Comunque nel workout hai tutto scritto, hai anche disegnato l'arpeggio maggiore e minore per capire come andarlo a diteggiare, perché poi la diteggiatura sarà sempre uguale, cioè parte sempre dalla quarta corda. Nell'esempio di Do maggiore io ho Do, Mi, Sol e poi Do, Mi, Sol all'ottava superiore. Cerca di mantenere la stessa diteggiatura, cioè 2, 1, 4, Do, Mi, Sol, poi spostarti col 2 sul Do dell'ottava sopra, 1, 4. Poi si ritorna indietro ribattendoli, quindi Sol, Mi, Do, Sol, Mi, Do. Qui passiamo alla sua relativa minore, che è il La. Ricordo la relativa minore viene costruita sul sesto grado della scala maggiore. In questo caso, essendo partito dal Do al tasto 8, la relativa minore solitamente la trovi sempre tre tasti sotto, quindi il La. Qua avremo come diteggiatura 1, 4, La, Do, Mi e poi ci spostiamo, La, Do, Mi l'ottava superiore anche qua. Quindi manteniamo la diteggiatura, 1, 3, 4, sposto 1, 3, 4 e poi torno indietro. Questo esercizio è fatto in 6 ottavi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terminata questa posizione, ho fatto Do maggiore, La minore, passo al suo relativo, passo nel ciclo delle quinte all'accordo di Fa maggiore. Però non posso andarla a prendere qua il Fa perché sarebbe, avrei, riuscirei a fare Fa la Do ma poi per la successiva mi manca una corda. Quindi io devo sempre pensarlo partendo dalla quarta corda. In questo caso ho due possibilità nel Fa, potrei anche prenderla a vuoto partendo dal tasto 1, però attenzione qua che hai poi il terzo, la terza che devi prendere con la corda a vuoto. Fa, La, Do, Fa, La, Do. In questo caso, se preferisci, puoi partire dal 13 per mantenere la diteggiatura. 2, 1, 4, 2, 1, 4. Fa, La, Do, Fa, La, Do e ritorno giù. Vado a relativa minore che è Re, Re, Fa. Ok? Poi devo passare all'accordo sopra. Si bemolle maggiore, si bemolle. Vedi che la diteggiatura è sempre la stessa. Sol minore che è la sua relativa. Ora devo andare a Mi bemolle maggiore. Relativa a Do minore. La bemolle maggiore. Relativa a Fa minore. Re bemolle maggiore. Cerca sempre di pensare prima a quello che verrà dopo. Relativa a Minore. Si bemolle maggiore. Sol bemolle maggiore. Attenzione che qua ci sarà poi un bello smanicamento. Mi bemolle maggiore. Si maggiore. Relativa a Minore. Sol diesis maggiore. Mi maggiore. Do diesis minore. La maggiore. Fa diesis minore. Re maggiore. Si minore. Sol maggiore. E poi andrò sul Mi minore. Attenzione che quello prendo a vuoto. Perché è più comodo. E poi dovrei ripartire dal Do maggiore. Come hai visto le diteggiature una volta che sono memorizzate anche con un po' d'occhio non sono particolarmente difficili. Diventa più difficile il pensare avanti, cioè sapere quello che verrà dopo e andarlo poi a prendere al volo. Nel workout, oltre ad avere scritto comunque tutti gli accordi, cosa che ti consiglio all'inizio magari di tenerti sott'occhio, ci sarà anche la solita batteria in sei ottavi. In cui possiamo mettere un tempo e poi andarlo a suonare, eccetera, eccetera. Grazie. Grazie. Grazie.